Ancora una vittoria per l'Arezzo calcio femminile che si avvicina sempre più alla Serie B. Le ragazze Amaranto hanno infatti superato di misura la Ternana nel match disputato al Gubbiotti di Narni, grazie ad un gol al decimo minuto della ripresa di Paganini. Diverse le iniziative ma nessuna grande occasione da ambo le parti nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo invece l'Arezzo parte forte e dopo due spunti interessanti di Ceccarelli, Paganini sblocca lo stallo. 1-0 per le ragazze Amaranto. Le ragazze dell'Arezzo calcio femminile portano così i punti di vantaggio sulla seconda in classifica 12 quando mancano 5 gare alla conclusione del campionato. Insomma manca solo uno sforzo finale prima di partire con i festeggiamenti per la promozione in Serie B della squadra del presidente Massimo Anselmi.